Ciao e grazie, la Francia vince, vola in finale, dichiarazione a caldo di Didi Deschamps, con i soldi del premio partita finalmente potrò mettere a posto la bocca, sistemare quei due canini e quattro molari che mi mancano e finalmente poter sorridere anch'io come una persona normale. La Francia vince grazie a un gol di Didi, io che appartengo a un calcio che non c'è più, a un calcio quello di Nedo Sonetti, di Gigi Radice, dove gli allenatori andavano sempre in panchina con l'impermeabile e rimango del mio parere. Sul calcio d'angolo io voglio una marcatura uomo e non una marcatura zona, lì non c'è stata né una marcatura uomo né quella zona che è quella che fa il Belgio. Untti ha preso la palla, l'ha spizzata lì e quando l'ha spizzata lì 90 su 100 fai sempre gol. La Francia, grande squadra, centrocampo stellare, Pogba superlativo, Kanté maratoneta, Keniano mancato, Matuidi, Keniano mancato pure lui, Griezmann, giocatore straordinario che può inventarti di tutto da un momento all'altro, davanti c'è lui, poi c'è quell'altro, lui è involta con le scarpe a 13, Mbappé, giocatore eccezionale, una velocità e una tecnica che fa paura, fa veramente paura. Il Belgio va a casa come al solito con tanti complimenti, come quando noi giocavamo a biliardo al bar, tu tiravi, facevi un bel tiro e ti dicevano bravo, bravo, quell'altro tirava faceva 8, poi ti dicevano bravo per un altro tiro bello, quell'altro tirava 8 e parino da 4, alla fine tu prendevi 20 bravo però andavi te dalla Isa a pagare il biliardo, capito? a furia di prendere bravi però pagavi sempre te. La Francia vola in finale, meritata perché ha avuto il pallino del gioco, ha lasciato il pallino del gioco al Belgio, si è difesa in maniera compatta, è ripartita in contropiede, ha avuto le occasioni più importanti, mi ricordo il tiro di Pavard con una grande parata di Courtois, un altro tiro di Tolisso con grande parata sempre di Courtois, Courtois grande portiere che ha fatto un mondiale strepitoso, come l'ha fatto del resto Eden Hazard, giocatore straordinario, semplicemente straordinario, giocatore veramente un orgasmo calcistico vederlo giocare, bravissimo Eden Hazard, peccato che il suo mondiale finisca qua. La Francia va in finale per vedere chi sarà l'avversario, vi do appuntamento domani sera dopo la partita tra Croazia e Inghilterra, sempre commentata dal vostro simpaticissimo e accattivante Mister Primi, condividete il mio video se vi è piaciuto e quindi ci vediamo domani sera. Ciao e grazie!